Questa mattina i Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP di Salerno su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 25 soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata la commissione di furti, utilizzo in debito di carte di credito e riciclaggio degli illeciti proventi nonché di minacce aggravate dal metodo mafioso. Al centro delle investigazioni le attività criminali di appartenenti ad una comunità rom che da numerosi anni vive ad Agropoli. L'indagine ha documentato come il gruppo fosse dedito all'esecuzione di furti con destrezza e danni di gioiellerie poste su tutto il territorio nazionale, furti all'interno di autovetture e all'utilizzo in debito delle carte di credito asportate. Le investigazioni hanno accertato anche una serie di gravi minacce nei confronti sia di appartenenti alle forze dell'ordine sia di amministratori pubblici della cittadina cilentana. Le condotte che sono state contestate si inquadrano certamente in un reato associativo. Tenere sotto scatto Agropoli è probabilmente eccessivo come espressione ma certamente si erano insediate sul territorio in modo stabile danni e certamente erano responsabili di tutta una serie di reati, ripeto, contro il patrimonio e anche contro le persone. Quindi indubbiamente gravi, molto gravi le condotte di minacce ripetute nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Tenete conto che ad Agropoli abbiamo come presidio delle forze dell'ordine la compagnia dei carabinieri. Gravi, gravissime le condotte recentissime del luglio 2018 ai danni del primo cittadino. E evidentemente la pretesa di, attraverso queste condotte, di rallentare o di impedire la doverosa esecuzione dei provvedimenti di confisca e quindi di sfratto anche degli immobili che erano state disposte nei confronti degli appartenenti all'associazione. E' stata praticamente semidivelta la porta dell'anticamera perché pretendevano un numero di persone cappeggiate da uno dei promotori dell'associazione di essere immediatamente ricevuti per avere conto e ragione, secondo evidentemente le loro espressioni, di tutta una serie di condotte doverose che il primo cittadino e il comune di Agropoli stava attuando. Ma sostanzialmente si è trattato di fatti episodi in cui alcuni importanti esponenti del gruppo che è stato oggetto dell'inchiesta, rivolgendosi ad alcuni bravi appartenenti alla compagnia dei carabinieri di Agropoli, in momenti di particolare impegno operativo sul territorio, anche nei confronti della comunità, veniva chiesto sostanzialmente di allentare la presa e quindi di ridurre in qualche modo i controlli. E questo ovviamente è stato velocemente segnalato e rappresentato dalla Procura, in qualche modo ha dato un'impennata importante insomma all'inchiesta già in atto grazie alla quale erano stati già raccolti importantissimi elementi a carico di tutti i soggetti che facevano parte insomma dell'organizzazione criminale. Ma è proprio minacce di morte insomma diciamo sì? Ma sostanzialmente si è trattato di incontri sporadici con alcuni militari anche occasionali, qualcuno di questi anche libero dal servizio, in cui si è fatto notare praticamente che insomma la compagnia stava lavorando, stava in qualche modo infastidendo e ostacolando le attività illecite evidentemente della famiglia.